cominciamo la visita anche di questo castello il viale d'accesso costruendo il castello di non so sul fiume Cher nel XVI secolo Thomas Bouet e sua moglie Catherine Briconnet demoliscono la fortezza e il mulino fortificato dalla famiglia dei Marques conservando esclusivamente il maschio la torre dei Marques che trasformano in secondo il busto rinascimentale e questa è la barchetta che gira dentro il leghetto del castello piccolina il castello di Cienonso è definito il castello delle donne per i vari personaggi femminili che negli anni lo hanno abitato nel 1547 il re Enrico II offre Cienonso alla sua favorita Diana di Poitiers dama che allea bellezza intelligenza e un ottimo senso degli affari i giardini creati da Diana intorno al castello sono tra più spettacolari e moderni del suo tempo molte altre dame abitarono nel castello di Cienonso ognuna di esse lasciò la propria impronta da Caterina dei Medici a Luisa di Lorena la rappresentante del secolo dei lumi Louise Dupont restituisce al castello i fassi di un tempo trasformandolo in un brillante salotto e accogliendo scrittori poeti scienziati e filosofi altra donna che abiterà il castello di Cienonso e Marguerite Pelouse appartenente alla borghesia industriale decide nel 1864 di fare del castello e del suo parco il teatro del suo gusto pastoso spenderà una fortuna per restaurarlo e restituirgli l'aspetto che l'edificio aveva in origine uno scandalo politico la porterà alla rovina per Cienonso passerà di proprietario in proprietario fino al 1913 l'ultima in ordine di tempo è Simone Migny capo infermiera amministra l'ospedale installato nelle due gallerie del castello trasformate e attrezzate a spese dalla sua famiglia che è produttrice di cioccolato fino al 1918 l'ospedale accoglie più di 2000 feriti in suo coraggio la porterà compiere numerose operazioni di resistenza durante la seconda guerra mondiale dal 1939 a 1945 la camera di Luisa di Lorena che scura e questi sono una parte dei giardini questo castello è bellissimo proprio castello abitativo quindi completo di tutto grazie a tutti oggi è il 31 maggio sono le 12 e 09 stiamo lasciando il parcheggio del castello Grazie a tutti